salve a tutti carissimi amici bentornati in compenna del guerzo e di flavio ciao a tutti oggi andiamo a provare uno smartphone che non avevamo provato ancora ci mancava all'appello allora come vi ho già raccontato nel video precedenti l'ho chiesto a oppo e questa è la nostra recensione oramai fuori tempo limite quasi una riprova però sai ora che c'è stato un abbassamento di prezzo e si trova nella grande distribuzione a 3,99 mi pare con 3,99 4,99 di listino magari ai nostri clienti può far piacere sapere come va adesso più che altro perché questo smartphone quindi l'oppo find x3 light è stato nominato da praticamente tutti un best buy best buy quasi top un light travestito da top anzi un top travestito da light e quindi eravamo anche curiosi di capire cosa ci fosse di vero dietro questa prosopopea e cosa invece magari veniva enfatizzato possiamo dirlo andiamo per gradi però ragazzi intanto qua sotto lasciate un bel mi piace così ci supportate in questi video molto cazzuti no perché quando forse andremo contro gli altri c'è sempre problemi no c'è sempre polemica condividete il video hai spoilerato un po però l'andare contro gli altri non è davvero per né per fare polemica né per fare qualcosa di diverso né per attirare l'attenzione noi diciamo sempre è solo quello che pensiamo dicevo che mi interrompe sempre condividete il video e iscrivetevi mi raccomando al canale youtube oppo find x3 light allora lato estetica e design a me piace non è niente di incredibile nel senso a livello dei materiali è sotto e ci mancherebbe altro mio è proprio plastica è plastica in tutto nel frame nel copri batteria quindi plastica carino da vedere con questi colori si è molto bello molto colorato la sensazione al tatto dietro alla fine è anche buona non è una plasticaccia per interno potrebbe essere tipo l'S21 un po al tatto secondo me è un po più leggerino forse sì perché l'S21 ha quella quella sensazione quasi a metà strada un finto vetro si è plastica per carità come è plastica questa però forse questo è un po più plastica diciamo allora si riporta lo stile ragazzi del light di anno scorso quindi comunque un display flat uno smartphone che assomiglia un po no al l'X2 light e una back cover che appunto colorata in questa in questa colorazione piace piace perché comunque da un tocco di tocco più giovanile no al telefono ecco lato decisione in parte telefonica che è un argomento abbastanza tralasciato da alcuni ma secondo non molto importante come l'hai trovato allora ti dirò io l'ho usato con vodafone e ovviamente dentro casa come sempre avevo segnale solo vicino alla finestra come tutti gli altri telefoni quindi diciamo da questo punto di vista non si discosta molto usando l'immobilità perché faccio sempre il tragitto no lavoro a casa a casa lavoro non ho avuto problemi né interruzioni in chiamata mia moglie mi ha sempre sentito bene insomma quindi anche la velocità della della rete 4g prende naturalmente 4g plus volte 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 sì android auto android auto funziona perfettamente e me ne sono ricordato ragazzi vedi ma in realtà ultimamente non ho avuto problemi con android auto su quasi nessun telefono io sì perché non ce l'ho ogni tanto oneplus 9 pro ogni tanto frizza e mi tocca riavviarla però diciamo sporadico non è una cosa no questo android auto assolutamente nessun problema ma l'unica cosa ho notato a differenza come sapete io sto usando come primario il find x3 pro a me sembra che è questo non so se è un'impressione mia sia un pochino più aggressivo nel chiudere i processi te lo dico perché ad esempio avevo messo a caricare della roba su drive e mi si e mi si bloccava appena andava in stand bar si bloccava ho dovuto settare tutti i risparmi eccetera col find x3 pro invece nessun problema di questo tipo quindi qualche risparmio energetico di troppo forse forse sembra forse perché sono gli 8 giga di ram rispetto ai 12 di x3 pro ma 8 giga di ram insomma sono più che sufficienti per contenere talmente tante applicazioni che non c'è bisogno di risparmio di questo tipo per quanto riguarda il display che unità è stata scelta il display è un full hd amoled a 90 hertz mi è piaciuto è molto ben leggibile all'aperto quindi nessun nessun problema il touch risponde sempre bene a proposito di touch la cosa che non mi piace è la vibrazione ho sentito appena l'accesa mamma mia la vibrazione ragazzi indegna sembra veramente sento un telefono da 100 euro quando l'accesa si è sentita subito è proprio zanzarosa si siamo a livelli oppo sulla fascia media secondo me sulle vibrazioni devi fare qualcosa di più come il neo dell'anno scorso anche non era e il reno 2 il reno 2 ti ricordi addirittura aveva anche la codina i brividi proprio mentre il neo di quest'anno e il pro beh hanno sicuramente un altro passo soprattutto il pro non è aptica quella del neo ad esempio però è molto più precisa e netta più soft questa invece è proprio fiacca e zanzarosa è fastidiosa sì poi ho avuto un piccolo bug ho risolto con tre riavvi che avevo messo silenzioso però continuava a suonare riavvio niente secondo me niente al terzo riavvio finalmente risolto allora a patch di giugno sì volevo arrivare lì infatti prima abbiamo guardato mentre stavamo facendo le clip ha aggiornato le patch di giugno cosa che ancora il trend pro l'hanno aggiornato a giugno o è sempre maggio? no è maggio ok anche il neo è maggio mentre il light è già aggiornato le patch di giugno ovviamente avete android 11 e ovviamente avete la color os nuova che vabbè oramai come dico sempre avete imparato a straconoscere e che a noi sinceramente piace molto sì 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 c'è ancora qualcosina che si potrebbe far meglio però diciamo la base è molto buona soprattutto partiamo da una interfaccia orientale pura che si è trasformata poi nel tempo e che nell'arrivo in italia sicuramente ha molto più europea io da organizzatore oppo già nel lontano 2013 con fine 5 nel 2014 con fine 7 anche la color os era bellissima c'era l'animazione le icone si muovevano il meteo il meteo in tempo reale quindi se nevicava cadeva la neve sulle icone dovevi se c'era la nebbia dovevi spannare col dito perché no no è carino è carino è carino effettivamente carino per quanto riguarda processore è il 765 quindi segue tutti i medi gamma che abbiamo già visto più volte che abbiamo visto anche l'anno scorso come si comporta il 765 qua direi per parafrasare uno famoso bene ma non benissimo parliamo di robazzi ovviamente però ecco qualche qualche lag nelle animazioni c'è non sembra un fulmine non è lento perché comunque la color os non è un'interfaccia pesante è ben gestita però ecco sembra sempre che gli manchi un pochino di spinta ad esempio ai tempi un qualsiasi anche un oneplus nord probabilmente era più fluido e anche il mi 11 light è vero a un 780 per la differenza tra il 765 e il 780 non è così abissale è un po' più morbido nell'utilizzo quotidiano non è quel fulmine di guerra che forse ti aspetteresti da un 765 perché ormai è un processore collaudato e molto potente l'altro batteria invece la batteria è strana è un comportamento strano cioè mi è capitato io ti dico in medio ho fatto circa 5 ore e mezza con la maggior parte wifi il mio utilizzo è praticamente in mobilità quindi andare e tornare dal lavoro a casa sono sempre in ricerca segnale come sapete in ufficio la rete wifi quindi è un utilizzo misto con qualche cambio cella per un'ora e un quarto un'ora e venti circa e siamo intorno alle 5 ore considerate che è una 4300 mAh quindi secondo me ci può stare non è particolarmente risparmioso però è un telefono che ti porta tranquillamente a sera non ho mai avuto difficoltà nello scavallare la giornata allora foto reporter raccontaci anche della fotocamera sono curioso insomma Oppo punta tanto si è una 64 megapixel non stabilizzata allora le foto secondo me non sono mare esagera un pochino con la saturazione del colore cioè tanto passeranno le foto questo cielo proprio turchese fluo e te dici ma dove l'ho visto sto cielo? come Samsung una volta come Samsung una volta quindi punta magari un po' sulla fra virgolette la spettacolarità della foto la sera cade un po' il dettaglio però la modalità notturna funziona abbastanza bene ricordiamo appunto parliamo di un telefono che ora costa 399 euro quindi insomma le foto sono chiaramente di sera dovrebbe andare a calare no? esatto ovviamente cala si vede impasta leggermente esagera forse con il denoise un pochino proprio per evitare la grana del rumore però diciamo che sono godibili anche di sera mentre la grandangolare niente di particolare insomma onesta io la sera la grandangolare non la userei i video invece secondo me non ci siamo la stabilizzazione non è buona se te attivi l'ultra steady sei limitato al 1080p a 30 frame al secondo la situazione migliora però naturalmente siamo perdi qualità sì siamo a livelli medi secondo me dal punto di vista dei video una 52 5g ad esempio fa un pochino meglio allora andando a concludere un po' no il video perché noi il titolo abbiamo usato obbligo verità no? un po' andando a scherzare con a giocare no? con il titolo del video ma effettivamente è quello che ci siamo chiesti perché di smartphone sotto le nostre mani ne passano tantissimi veramente tantissimi e andare a decretare questo x3 lite un best buy di medio gamma a 500 euro che è poi il prezzo che alla fine è uscito no? 499 o 449 se era un'offerta all'inizio ora non vorrei dire cavolate perché dopo non ce l'hanno mandato mi sembra un po' esagerato sì è un buon telefono secondo me assolutamente perché comunque è estremamente affidabile fa più o meno tutto quello che gli chiedi bene non ha problemi però ecco ho letto tante e ho ascoltato tante opinioni forse troppo amplificate su questo telefono quindi va come un top ma costa come un light no va come un light costa costava anzi un pochino più della media anche ora è al prezzo giusto 399 secondo noi è un prezzo assolutamente a fuoco è un best buy no ci sono delle alternative quindi se la gioca con tanti altri telefoni che magari possono puntare qualcuno magari sul display migliore qualcuno su una dotazione hardware migliore qualcuno come a 52 5g ad esempio ti offre una certificazione ip e aggiornamenti più frequenti ciascuno dei competitor di questo telefono che costano più o meno diciamo tutti la stessa cifra penso anche al mi 11 light 5g davvero ottimo ha qualcosa da offrire per cui lui è un best buy no è un buon acquisto è assolutamente un buon acquisto però non tale da dire se non lo prendo perdo l'occasione della vita no ragazzi noi aspettiamo ovviamente nel box dei commenti perché vogliamo sapere la vostra opinione arriverà un versus con i prossimi giorni potremmo anche inserire la 52 5g e fare un confronto a 4 perché abbiamo trovato con mi 11 light e poco f3 due valide alternative a questo smartphone ma forse anche la 52 5g che costa comunque 400 euro potrebbe essere una valida alternativa quindi mi raccomando supportateci con un bel commento la vostra opinione è come sempre fondamentale e da wez da flavia è tutto e noi ci vediamo domani per un nuovo video ciao a tutti